Prosegue in campania la ripresa graduale della didattica in presenza. Dopo che lo scorso 11 gennaio la campanella è tornata a suonare per la scuola dell'infanzia e per le prime e le seconde classi della scuola primaria, lunedì 18 gennaio porteranno a ritornare in classe anche gli alunni delle terze della scuola primaria e quanto stabilito in seguito alla riunione dell'unità di crisi che si è tenuta nel pomeriggio di venerdì. Sarà dato inoltre mandato alle ASL di distribuire ai medici di medicina generale test antigenici per il monitoraggio della situazione dei contagi del personale della scuola, docente e non docente, con priorità per chi è già impegnato nella didattica in presenza. Intanto nel consueto aggiornamento settimanale sull'emergenza covid, il governatore Vincenzo De Luca ha tracciato il quadro della campagna vaccinale. Entro febbraio, con le circa 340.000 dosi che saranno disponibili in campagna, la vaccinazione sarà completata per circa 170.000 persone che rientrano nelle categorie del personale sanitario e delle residenze sanitarie assistite. Il governatore ha inoltre posto l'accento sull'obiettivo di rendere la campagna, la prima regione d'Italia ed Europa, ad uscire dall'epidemia, mediante un'operazione di grande difficoltà organizzativa che comporta la vaccinazione di 4.200.000 persone entro dicembre 2021, a patto che siano disponibili le dosi di vaccino necessarie. Il governatore ha inoltre presentato la card che la regione metterà a disposizione di tutti coloro che saranno immunizzati. Vi avevo parlato la volta scorsa di questa tessera, di questa card, eccola qui, questa è quella che abbiamo messo in produzione e che daremo a 4.200.000 cittadini campani. Questo è il retro, vedete che c'è un microchip, ovviamente chiariamolo, a volte noi abbiamo l'abitudine di fare dibattiti a vuoto, è chiaro che rispetteremo tutte le condizioni della privacy, non ci sarà nessun privilegio, è un servizio in più che diamo a chi lo vuole. Ai cittadini che fanno le due dosi daremo questo attestato. Con questo chip si potranno fare delle cose molto interessanti, si potranno fare per esempio le prenotazioni sui treni dell'alta velocità, si potranno andare in un ospedale senza doversi fare il tampone, avendo la certificazione dell'avvenuta vaccinazione e mille altre cose. Basterà avvicinare il retro della card ad un qualunque cellulare per avere la conferma dell'avvenuta vaccinazione in un secondo perché questa tessera è collegata alla piattaforma sanitaria regionale, non può essere vista da nessuno al di fuori della piattaforma sanitaria regionale ed è del tutto anonima, certifica solo l'avvenuta vaccinazione.